...di più movimenti, di cui noi ve ne proponiamo due, che ci hanno colpito particolarmente. Sono tutti ispirati sempre a delle danze, quindi rimaniamo all'interno di questo grande tema, questa volta però balcaniche. Abbiamo quindi questi due movimenti, il calamazianos e il critis, che si alternano e, a differenza di quello che avete sentito fino ad ora, introduciamo una diversa proprio pulsazione, cioè parliamo di un sette ottavi, in un tempo, noi siamo abituati alla quadratura dei quattro quarti o al limite del tre ottavi, tra quarti, quindi tempo binario e eternario, in questo brano i tempi si incrociano, creando una struttura, che è appunto quella del sette ottavi, con... ...ed è incredibile vedere quanto in altre culture ci sono dei tempi, questo è uno dei più semplici per dire, ma ci sono veramente dei tempi composti difficilissimi, e vedere magari dei bambini di quattro anni che riescono tranquillamente a ballare su questi tempi della musica popolare, che se ci provo io, mi raccogliete comunque. Grazie. 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 Grazie.